Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono in compagnia di Ulis 1996 Che poi è Zulis 1996, se l'ho cercato su YouTube dovete mettere la Z davanti perché Deve sempre fare l'alternativa Esce comunque No, non esce perché devi fare sempre l'alternativa Ok ragazzi, siamo qui in questa giungla strana e sconosciuta Siamo circondate da piante stranissime tipo questa Gloriosa Oh gloriosa, gloriosa Gloriosa, non l'ho mica vista Questa che è la pink gerbera, c'è la gerbera Ciao gerbera Ciao gerbera Poi abbiamo Strawberry Oh, no, ninja Oh strawberry Ma se io l'acciacco la prendo? Con il sinistro, sì Oh guarda, trovo i semi di bacca Raccoglio cibo Che bruttico Cibo, cibo, cibo Sì ma sono, è tipo, ma perché è tipo un sacchettino, vedi? È un sacchetto con Che ci faccio, che ci faccio? Con la polvere Sono i tipi semi di piante Posso fare i cioccoletti strawberry Guarda, faremo una cosa bella No, no, anch'io, anch'io Ah, ecco le trovate Cioccoletti strawberry Eccolo fa il cioccolato Con il latte, lo zucchero e cacao Vabbè, giustamente Oh no, ok, perfetto Ok, che facciamo? Dove andiamo? Di qua, andiamo di qua Guardale giù Guardale giù, vieni qui, vieni qui Guarda, cosa c'è, cosa c'è Guarda, guarda, guarda Guarda che panorama Ti è Tan 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 Con la biome sopplenti poi Guarda quel blocco Perché c'è un blocco che vola? Perché c'è una regola che fa l'alpinista? Eh, quella, boh Ci sono due pepe che fa l'alpinista Sì ma quella sta, tipo L'albero blu Sa l'albero blu Dove? Là, là sopra Gli alberi blu Andiamo a cercare gli alberi blu Andiamo a cercare gli alberi blu Ok, alberi blu Ah, comunque non avevo spiegato dove siamo Cioè Siamo in un pack sconosciuto, ignoto Che nessuno conosce No, è vero ragazzi Lo conoscono tipo tutti Però è tipo Modificato Modificato Oggiornato Poi c'è una caverna pure Praticamente ragazzi Per non fare nomi È tipo la La Frb Ultramate È praticamente aggiornata Alla 164 Esatto Chi ha capito Chi ha capito Antenda Anteso Io trovo Tipo un alberone blu Rainbow Eucalypti Non è blu È arcobaleno Esatto Ma io devo vedere legno Aspetta dove vedo il legno Guarda Il legno arcobaleno Ma no Bellissimo Ci facciamo una casa arcobaleno? No, no, dai Aspetta Voglio fare una casa arcobaleno Ci faremo qualcosa arcobalenoso Ma non la casa Ah, questo è il log Sono, ok È tipo Se gli alberelli Quelli Che all'interno Sono tipo diversi Strani Perché hai fatto lo stick? Per picchiarti Ok Hai fatto lo stick per picchiarmi Interessante Ok, intanto faccio una crafting table Perché voglio l'accetta Chi c'è c'è Chi non c'è Non c'è Ah, ho già fatto Eh, vabbè Ok Fallo che faccio Voglio il piccone E l'accetta Ok L'accetta della molla a te Ti ha divertiti Ma l'ho fatta Eh, te ne prendi due Eh, il piccone Allora me lo prendo io E ci trovo un pezzo di pietra Così facciamo la città di pietra Facca più velocemente Oddio Un pezzo di pietra Ma non c'è stata la pietra No, voglio la Voglio la superficie La voglio Ok, perfetto Lui vuole la superficie Pietra Non la trovo È tipo Come la trovi? Non c'è pietra C'è una caverra lì sotto Alpe, ti faccio vedere la caverra Non c'è pietra in superficie Ti faccio vedere la caverra Ti faccio vedere Aspetta, aspetta Eh, lui mi fa vedere la caverra Sei rotta, sei rotta È già la GreggTech Wow, quanto potente Ah, sì, giusto Mi avevo ricordato una cosa C'è la GreggTech, ragazzi Ma se scavo qui Aspetta, scavo qui Ma perché scavari lì? Perché? C'è la caverra Aspetta, ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Mamma mia È stata la cobblestone Il materiale più raro di questo mondo Mamma mia Mamma mia, finalmente ragazzi Già la tecnologia avanza Dall'intimo alla cobblestone Mamma mia Proprio best pack tecnologico ever Mamma mia Ok Prima poi arriveremo anche la stone Si è rotta anche questa È già rotta pure quella Si, mi dicono che la sai Ma io vorrei uscire da qui E io faccio degli stick Va che è meglio E io invece te metto la stone Ma c'è Come facciamo a fare una crafting insieme? Non c'era quella lì Che la piazzi per terra Con C, con F, con G Come era? C, V Vabbè Si, mi sembra che era per terra Però mi sembra Eh no, non c'è Non mi ricordo che mod è Boh, se la trovo la mettiamo Quella factorization deve essere, sai? Perché è tipo Non era la utili di qualcosa Ah, factorization Ah, ho fatto un piccone di stone E non ci serve perché ci serve l'accetta, giusto? Ah, quando io faccio Faccio la città di stone Tieni, tieni La butta per terra Città di stone Che me devo fare? C'ho 23 log Che devo fare gli altri log? Eh, prendiamone tantissimi E ci mettiamo Eh, prendiamone altre, vai Facciamo i money grab No, i ligno grabber Ligno grabber Wood grabber Ah, più che altro Io odio gli alberi tagliati a metà Dobbiamo finirlo questo Eh, come ci arriviamo di sopra? Quale è il problema? Non lo so, più che altro Se mi è messo a tagliare proprio L'albero arcobaleno, capito? Fra tanti begli alberi giunglosi Sto schifo Aspetta Provo a fare un attimo Spider-Man Fra tempo saluto Saluto la pioggia Che per metà È nella nostra parte Per metà no Non so, per piaccia Sì Guarda da qua Se piove da l'altra parte no Dove? Oddio Qui piove Oh, bello Con queste minecraft Interessante Ok, Uli Io sono messo in cima Aspetta, aspetta Forse ci arriva Eh, sì Come cerco Oh, trova di fogli Ho trovato Ci sono Guarda sulle cose Sì, vabbè, Uli Sì, è gigantesco Vabbè, ma quando lo sbraghi Sto cosa Oddio, eh no Non c'erano altri capito Non è spiacevoli Eh, non c'erano Non c'erano la tinker Che brutta cosa Eh, non c'erano Nemmeno la tinker La tinker bomb Un secondo Gero buttato giù Vabbè, dai Fate buono Comunque ragazzi Che ne pensate Di questa nuova serie La questione è che Quindi è uguale a quel pacchetto Che ultramente Che vi ho nominato prima Soltanto che aggiornata l'1.6 Quindi non solo ci sono le cose fighe Di allora Ci sono anche le cose fighe Di adesso Capito Esatto Tipo una combo Più che altro Ovviamente ragazzi La main mod Cioè quella che aggiunge più roba È la Greg Dove sapere che c'è la Greg Parliamo del fatto Che non so bene Cosa devo mettere Ok, abbiamo Abbiamo per su liste Nel frattempo Ui Marto Ok Tu pausa Taglia Taglia tutto Affetto 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 tutto C'è che tipo Una mod bella Tipo che Tipo il panino Ma la questione è che è tutto buio Io non ci vedo niente Eh ma andiamo tipo Può schierarci da qualche parte Ma siamo sicuri che è normal Andiamo a ammazzare le pecore Che abbiamo visto prima Sicuri che? È normal Sono solo che ho preso due sapling Io non so come cresce questo albero Ma so con quattro sapling E non vorrei dire una cavola Non lo so ma Sì Penso di sì Quattro sapling Ce l'hai qualche sapling te? No Rimediamo sapling Vai spacciamo le foglie Zotto E sto recuperando tutti sti blocchi Proprio finito la mia accia La questione è che non ci vedo proprio niente Io sinceramente questa versione No no Soltanto Non so se è problematico È più buio del solito No voglio una torcia Voglio torcia Eh fai Io c'è log Non l'ho messo a cuocere il log Magari facciamo Perché abbiamo anche la fornace Eh no Ce la facciamo magari Ah ok 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 Ecco io ho già rotto Ho già rotto il piccone Cioè il piccone mi ha raccolto dieci pezzi di stone E io non vorrei dire niente Dieci? Soltanto? Dieci e hai rotto il piccone Fatto Vabbè I piccone della Gregtek Mamma mia Dice la Gregtek Grazie Gregorius Sì dove salto Sì ma io non vedo niente Niente di niente Stavo cadendo invece mi sono salvato Non so perché Aia non mi sono fatto male Dove sei? Sono sotto terra a rimediare un po' di stone Al buio Sono completamente al buio Non vedo niente Terra Xander chiama terra Mi ricevete Mi ricevete Ho preso una wool Ho preso una wool Non vedo niente Ho preso una wool Dove sei? Ah tu sei qua Un sapling Sì sì io ce ne ho tre Io ce ne ho tre Ok ce ne ho quattro Ok Ok io ho preso Oh quanti ne ce ne sono Un sapling mio Sono tutti i treni trovati Bella 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 Andiamo un po' alla luce del sole Che io penso sinceramente Qui mi sono Dove è il sole? E qual è il problema? E quella è la domanda Sì esatto Troviamolo il sole Ma che ne sono? Intanto andiamo qui all'aperto Oh c'è la neve Oh qui nevica Oh c'è la neve? Eh bello Guarda lì c'è qualcosa di strano C'è la luce strana Mi sa che è quello della La towncraft La towncraft E non penso ci sia La towncraft La neve non dovrebbe crescere Lì c'è anche un piccolo amichetto Tipo? Tipo Cos'è un amichetto lì? C'è un Guarda lì Oh Quello è un blaze Con gelato Un blaze di ghiaccio Di Della terma L'hanno aggiunto tipo da poco È bello bello Ah che droppano quelle rod ghiacciate Quelli famosissimi Crioli Il gel per capelli Esatto Il famosissimo gel Il famosissimo gel della terma Compra anche tu il gel della terma No mamma mia Per della conciatura fissa Incredibile Andiamo su sali 24 ore Ho fatto le scalette più o meno Belle Sì belle le scalette Sali qui 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 Ciao vai Vai Sala così È tipo parkour Vai salta Oh 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 Vai ce la farò No non ce l'ho fatta Sali Oh ce la faccio Cosa è che mi blocca? C'è la foglia sopra La foglia che ci trolla Ok Ma io direi Guarda lì c'è una bella Una bella cosa Una bella tipo foresta Sì non serve brutto tipo iniziare Guarda quella parete lì Come mi ispira Lì ci farei un bel bug E casa Eh lì lì Dici Vedi quella bella parete sotto gli alberi Andiamo? Sì Andiamo lì Oh qui è alto però Io mi faccio male Sander ha tipo la La cosa da Gregtek Il mio mantello Esatto Questo è bello Poi lo rimediamo anche Ulisse Un mantello della Gregtek ragazzi Quando imparerò a usarla Sì Quando imparerò a usarla Ragazzi andremo da Gregorius E gli chiederemo per favore Se da un mantello anche a Ulisse Perfetto Pian piano Poi tipo Gli do tante cose belle Te la fai scendere? Ecco è arrivato Ulisse Andiamo andiamo Ciao zombie Ma io sto tipo morendo di fame Tu no Eh più o meno va Iniziamo a Ma siamo Oh oh mucche Oh eppure c'è pure un coso Un coso viola Eh io lo distruggerei Sai perché? Perché non abbiamo il piccolo C'è uno zombie dietro nascosto Sì Ma anche a te dici Ma che c'è No Che cos'era quel coso? No mi blocco dentro un blocco Blocca di dentro un blocco Che cos'era quel coso? No aia 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 C'è C'è un coso Mio dio Ho riuscito a farlo scappare Vai via Vai via stronzo Thunder Mi sono rifugiato in un buco Non lo so Io so solo che sto uccidendo una pecora Così mi da un po' di lana Cerca di trovare il posto No voglio il letto Voglio il letto Sto ammazzare le pecore Eh io c'ho Un pezzo di lana Io c'ho due Ti vedo Ti vedo Uccidi quel tizio Aia Uccido il cavolo Uccido Sì ma ho usciutato a me Quello fa un male Cos'è il furioso Furioso Stronti Ma diventa più forte Di volte che lo colpisci Oh Sì 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 Diventa sempre più grande Ci stanno gli HP strani Non lo so che cos'è Io Io mi infilo sotto terra Chi c'è c'è Chi non c'è Non c'è Non c'è Mi ha messo all'angolo Mi ha messo all'angolo Dove sei? Non ti vedo lì Aspetta dove sei? Ho finito il piccone No c'ho ancora il piccone Ah ecco ti vedo Ti vedo Ti vedo lo zubi Ah eccoti Grazie è grosso quello E' arrabbiato eh Come sei entrato là dentro Ce l'ha un piccone Creeper Dai ma che cos'è L'invasione dei zombie qui Aspetta aspetta Ok ce l'hanno con me Ce l'hanno con me Apri un attimo Fammi entrare Apri un secondo Apri un secondo Apri un secondo Apri un secondo Piazza il blocco Piazza il blocco Entra Richiudi Richiudi Esplosolisse Esplosolisse ok Eh aspetta Devo trovarti Oddio Quattacente c'è Allora aspetta Adesso ti faccio un'entrata sicura Degli zombie eh Eh esatto dove siamo andati All'altra parte No è vero Merda Ho trovato la zona Per andare da te Guarda Guarda quanti sono Quello furioso Non l'ho mai incontrato Non è una bella cosa Non lo so È un coso brutto enorme Io diventa più forte Che quando lo colpisci Che è il cavolo Troppi Uli Dove siamo andati Vieni Passa da sopra la mia destra Aspetta faccio un buco sopra Così passi dall'alto Trovarti dove Dove stavi Tipo Non mi vedi Non vedi la test Ah Ah ok Ah no Ho trovato Ho trovato Ok Sì perché non c'ho la mappa Sì Cazzo metto la prossima puntata Io Non figo Che faccio le cose dopo Ok Allora Allora Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Spera Sì Sto morendo giusto un pochetto Però in teoria dovrei riuscire Ad arrivare da te Uh Carry carry Ciao scheletro Come stai? A me qualcosa mi ha colpito Non so cosa Però ok Allora Sto arrivando Sto arrivando Dove è? Di là Di là Di là Faccio il giro Faccio il giro Che sono più fermo Sono più furbo Ulisse passi da sopra Vedi un albero Vedi c'è un buce Ci so io Vieni mi incontro Mi vedi il mio nome Eh no Non ho detto il tuo nome Però so dove Sì ti vedo Ecco c'è un albero Vedi Sì sarà un albero Spacca la base dell'albero Non è pieno di zombie Buttati Ulisse Buttati Buttati nell'albero Buttati Buttati Rompi il blocco Rompi il blocco L'ho rotto No niente Tardi Arrivano i zombie Corri Non fermarti Corri come un passo Madonna C'è pure quello Non fare lo stronzo No ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene ragno Ti voglio bene Ti voglio bene Ricorda Ricorda Dio è con noi Dio ci vuole bene No Tutti lì stanno Eh c'è tutti davanti all'entrata Lo so No devo fare una spada Per forza Non so quando avanti così Ho fatto un creeper qua Devo farmi una spada Io direi che la cosa migliore È tipo Sto fuggendo da 18000 mob Quindi cosa faccio io Faccio una bella casetta qua Marto Esploso Ok Fatto Mi sono rinchiuso Mi sono rinchiuso Ok Riusciranno i nostri eroi A salvarsi dall'orda di zombie Lo scoprirete nel prossimo episodio Lo scoprirete nel prossimo episodio Quando andremo a combatterli A uccidere A massacrarli E fare una strage Di firtiale Di zombaccio Brutto brutto Ragazzi Questo motopac è assurdo E molto difficile E riusciremo a farcela Stiamo già morando Che brutta cosa Sfrutteremo tutte le nostre capacità Minecraftiane Per vincere Ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Ciao Ok 4 Dun 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 Guarda che roba Vengono tutti gli zombie Di passassini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti